Non si tratta di immagini di repertorio, magari della precedente alluvione nei primi di ottobre, bensì sono state girate in queste ore e documentano una situazione ai noi già vista. Ci troviamo a metà ponto e quel poco che si vede fuoriuscire dall'acqua, il parco archeologico, fondamentale per lo studio della Magna Grecia, nuovamente sommerso dal fango che in alcuni punti ha raggiunto l'altezza di un metro e mezzo, provocando ulteriori danni. E' il quarto episodio che si registra nell'arco di cinque anni, situazione simile anche a metà ponto Borgo, dove ci sono intere strade allagate. Anche qui i campi e le piantagioni sono sommerse per via dello strarivamento delle acque del fiume Bratano, per non parlare poi della zona Lido, interi stabilimenti spazzati via dalle mareggiate. Se non si interviene, così come quando ci siamo arrambicati la prima volta sul Campanile abbiamo chiesto ed ottenuto quelle barriere franciflutte, perché così come si può vedere in quei posti dove è stato quantomeno attuato una mitigazione e un mantenimento, la Duna ha retto. Quindi è ovvio che le scogliere soffolte per noi sono prioritarie e importanti. Se la stanno giocando tra commissari, regioni e via discorrendo. L'appalto è stato fatto, però noi oggi ancora non abbiamo visto nulla. Se queste barriere fossero state posizionate, sicuramente qualche struttura oggi avrebbe tirato un sospiro di sollievo.